L'esperienza della costruzione di navi risale a quando ero un ragazzo e con mio padre nel 1993 costruimmo la prima navetta. Sembrano passati mille anni ma nel 1993 le barche si costruivano nelle sale tracciate ed ero un piccolo capannone dove veniva riprodotta una barca a scala 1-1 e tagliato pezzo dopo pezzo. Sembra di parlare della preistoria, in realtà era il 1993. La mia prima barca dislocante mi è rimasta ovviamente nel cuore perché per costruirla ci dovevi mettere una grande passione e c'era un'anima. Quell'anima che poi nel corso degli anni successivi dal 1990 fino a poi passare per una quindicina, forse vent'anni, si è persa perché le barche sono passate da barche in acciaio a barche in detrovese. E ritornare dopo di oltre vent'anni, quindi nel 2010, su una barca dislocante era la prodo finale, diciamo, e l'inizio di una nuova sfida. Gli Esplorer c'erano già nel 2010, c'erano qualche cantiere che costruiva Esplorer e probabilmente erano più one-off che Esplorer. Cioè un armatore appassionato di mare si voleva far costruire la sua barca e andava in cantieri che magari non erano cantieri così famosi nel mondo dello yacht, ma magari andavano in cantieri che erano più specializzati nella costruzione di navi mercantili perché potevano portare facilmente la loro esperienza a riportarla nel prodotto. Quindi sono passati ormai, diciamo, quasi 30 anni e l'anima è rimasta quella, quella di costruire barche in acciaio. Poi io dividerei, ci sono barche in acciaio costruite, quindi barche in acciaio veloci, quindi che possono essere barche veloci o barche in alluminio veloci, che secondo me non appartengono al mondo degli Esplorer. Per essere un Esplorer deve essere costruito ovviamente scafo in acciaio e sovrastruttura in lega leggera, devono essere barche dislocanti. E noi abbiamo solo costruito barche dislocanti, tranne un paio di barche semi-dislocanti, ma in ogni caso noi abbiamo solo costruito Esplorer. Poi nel corso degli anni abbiamo capito che oltre a lavorare nella nicchia, quindi degli Esplorer, cioè costruisco una barca che deve somigliare a una barca da lavoro, siamo passati a costruire degli yacht con il cuore, l'anima e le caratteristiche dell'Explorer, come diciamo Arjei. Arjei è un Esplorer, Arjei non è un motor yacht, ma è un Esplorer, ha oltre 5.000 miglia di autonomia e ha tutte le caratteristiche di spessore dei materiali, di ridondanza degli impianti come un Esplorer. Quindi posso affermare che Cantiere delle Marche ad oggi, leader, uno dei leader, dei protagonista del mercato, costruisce solo Explorer Yacht.